Prima fila per Belmarino, Giorgio D'Alessandro Junior, Boato Clemar, Dario Battistini, Lisbet, Federico Esposito per Francesca Croce, Black LL, Vincenzo Luongo per Giorgio D'Alessandro Senior, Batman, Davide Di Stefano, Benedetta FS, Mario Minopoli Junior, Bora Di Poggio, Gaetano Di Nardo. Seconda fila, Baltimora Jet, Raffaele Palomba per Guido Saggiamo, Black Beauty Key, Giuseppe Pietro Maisto, Bayon, Gasparello Verde, Belze Buggett, Piero Carazza. Parte piano al 7, Bora Di Poggio, è fallosa prima del via, Baltimora Jet. Dall'esterno prova ad emergere Benedetta FS alla quale reagisce all'interno Lisbet, Lisbet che cerca di rientrare a Benedetta FS e si sistema in terza posizione Batman. Lisbet che rientra a Benedetta FS, in quarta posizione c'è Boato Clemar che ha all'esterno Black LL, dalla seconda fila Belze Buggett che affianca già Belmarino. Lisbet che ha deciso di correre al comando e ha respinto Benedetta FS, completa il quarto iniziale in 29.9. Muove subito deciso il netto favorito Belze Buggett che in terza ruota aggira ora Benedetta FS e va a gravitare subito su Lisbet. Insiste c'è il via libera per l'allievo di Piero Carazza che in 650 metri è il nuovo leader, Belze Buggett al comando, sfonda come ha fatto anche la volta scorsa. E precede ora Lisbet, Benedetta FS allargo, Batman in corda, Boato Clemar che allargo Black LL, poi ancora Belmarino che ha in fuori Bayon. Sullo slancio prende anche vantaggio Belze Buggett nei confronti di Lisbet che ha sempre all'esterno Benedetta FS, poi Batman e Black LL con Benedetta FS che si ripropone e va all'attacco di Belze Buggett dopo un primo giro da 1.16 appena abbondante con Benedetta FS che è aggressiva nei confronti Belze Buggett a fianco all'avversario che però ora reagisce all'interno, poi Lisbet con al lato Black LL con Belze Buggett che arriva al paletto dei 1.200 in 1.38 e si difende ora da Benedetta FS che sta facendo un corzone, riesce a scavalcare Lisbet, poi Black LL, quindi Batman che ha spostato la corda, Belmarino e Boato Clemar con Belze Buggett in vantaggio su Benedetta FS, ora ci prova Black LL, poi ci prova anche Batman a centropista, Belze Buggett viene ora richiesto a maggiore impegno, Benedetta FS è ottima ancora nella sua scia davanti a Lisbet che si riprende anche lei e torna a largo nel finale è netto Belze Buggett mentre Benedetta FS sfugge al ritorno di Lisbet per il posto d'onore 11.63 è l'arrivo ufficioso della seconda di Capanelle 2.24 sul mio cronometro che significa media di 1.16.5 per la seconda vittoria in tre uscite per questo Belze Buggett figlio di Wishingstone di Piero Carazza con i colori di Massimo Finetti seconda vittoria sulla pista romana, ottimo l'esordio davvero di Benedetta FS con Mario Minopoli Junior che respinge il ritorno di Lisbet che era sembrata in difficoltà ma nel finale si è riproposta e finisce ad una testa dall'avversaria, poi Black LL ribadisco 11.63 è l'arrivo ufficioso, linea allo studio seconda vittoria